Avvocato Croce si torna a parlare con forza della nuova Pescara, si avvicina il giorno in cui dovrebbe entrare in vigore questa città metropolitana, ma ci sono delle polemiche. Negli ultimi giorni ce ne sono state diverse che hanno anche riguardato i sindaci di Montesilvano e di Spoltore. Lei è presidente della Commissione Comunale Statuto di Pescara, cosa si sente di dire? Allora, innanzitutto si sta parlando della nuova Pescara già da due anni, da quando noi siamo entrati, da un anno e mezzo, da quando noi siamo stati eletti al Consiglio Comunale di Pescara. Nella commissione che io presiedo, che tra le varie cose si occupa anche del processo di fusione della nuova Pescara, è l'argomento principe della commissione da me presieduta e quindi ne stiamo parlando da sempre. I problemi dovuti al Covid e anche il periodo estivo probabilmente hanno fatto rallentare ancora di più questo processo. In realtà io credo semplicemente che l'ufficio di presidenza del Comune di Pescara voglia tenere alta l'attenzione su questo processo di fusione. L'atteggiamento comunque dei consiglieri e dei sindaci delle tre città, sia pure con visioni diverse, sia stata sempre propositiva. Quindi in realtà io penso che si stia comunque lavorando verso questa direzione. Però c'è il rischio, e non lo diciamo noi, che il primo gennaio 2022 possa non nascere la nuova Pescara, possa esserci uno spostamento più avanti della fusione delle tre città. C'è questo rischio, c'è questa possibilità? Allora, la possibilità è concreta, ma soprattutto perché lo dice la legge regionale 2018 che ha istituito la nuova Pescara e sappiamo che l'ha istituita a seguito del referendum che c'è stato negli anni precedenti. La legge regionale ha stabilito che l'istituzione della nuova Pescara debba iniziare dal primo gennaio 2022. Nel processo di fusione i comuni devono fare determinate azioni e attività, che si stanno facendo probabilmente con un po' di ritardo, ma si stanno facendo. Fatte determinate attività, i consigli comunali di tutte e tre i comuni, se si rendono conto che non si è ancora pronti, possono, e questo lo dice la legge regionale, votare per uno spostamento al primo gennaio 2024. E qui rientriamo ancora nelle disposizioni della legge regionale, quindi sotto questo aspetto non c'è nulla di nuovo e nulla di diverso. Anzi, lo dice la legge stessa, quindi siamo ancora, come posso dire, all'interno di tutto ciò che ha disposto la legge. Diciamo che dal 27 agosto, poi ci sarà l'assemblea costitutiva il 7 settembre, dove tutto ciò verrà votato, da lì poi finalmente si inizierà a lavorare nel concreto, proprio sotto la parte tecnica dell'unificazione dei servizi.